Facciamo un breve ripasso su come io posso analizzare una frase. Io posso analizzare una frase da tre punti di vista. Dal punto di vista grammaticale posso fare l'analisi logica della frase posso fare l'analisi del periodo. Ricordiamo brevemente quali sono le differenze di queste analisi diverse. Allora scriviamo una frase. Prendiamo allora in considerazione l'analisi logica di questa frase. Abbiamo detto che tutte le volte che bisogna analizzare una frase la prima operazione è trovare i predicati. In questo caso io ho due predicati. Il predicato mangia e il predicato dorme. Il predicato può essere di due tipi diversi. Posso avere un predicato verbale o un predicato nominale. Quindi la prima cosa da stabilire è questo predicato è un predicato verbale o un predicato nominale. Quando ho il predicato nominale. Il predicato nominale ce l'ho quando la mia voce verbale è formata dal verbo essere insieme a un aggettivo ma può essere anche un nome o un'altra parte del discorso. Questo è il predicato nominale. Il verbo essere si chiama copula e l'aggettivo, il nome o la parte del discorso che lo accompagna si chiamerà nome del predicato. Bene, sappiamo che intorno al predicato si crea una frase. Quindi regola d'oro dell'analisi logica è ogni predicato ha una frase e siccome io devo analizzare la frase devo stabilire bene quali sono le frasi che si costruiscono logicamente intorno a quel predicato e poi analizzarne una per una con calma. In questo caso ho due predicati e quindi avrò due frasi. La prima è questa e la seconda è questa. Frase numero uno, frase numero due. Analizziamola. Prendiamo la frase numero uno. Il gatto di mia nonna mangia i croccantini. Abbiamo già detto che questo è il predicato. Benissimo. È un predicato verbale. Voce del verbo mangiare. Seconda operazione fondamentale. Subito dopo aver trovato il predicato devo farmi la domanda magica. Chi compie l'azione espressa dal verbo? E troverò il soggetto. Spesso le frasi sono magari semplici, sono intuitive e quindi l'errore più comune che si può fare è trovare il soggetto senza neanche pensarci. Ci può andare bene. Ma quando le frasi si fanno un pochino complesse, questo può indurci in errore. Quindi ricordiamoci sempre questa regola. Benissimo. Chi compie l'azione di mangiare? Il gatto. Quindi il gatto è il soggetto di questa frase. Nell'analisi logica ci sono tanti complementi diversi. Tra questi complementi si possono fare due grandi gruppi. Complementi diretti e complementi indiretti. Il complemento diretto per eccellenza è il complemento oggetto. Cosa significa complemento diretto? Complemento diretto significa che quel complemento non ha bisogno di una preposizione per poter rimanere agganciato al verbo. Guardiamo questa frase. Noi abbiamo due elementi. Abbiamo i croccantini e abbiamo di mia nonna. Ecco a cosa ci serviva l'analisi grammaticale. Saper fare bene l'analisi grammaticale significa riconoscere le parti del discorso. Di mia nonna è introdotto da questa parolina di che è una preposizione. Allora io già capisco che questo sarà sicuramente un complemento indiretto. Invece i croccantini non ha nessuna preposizione. Può stare tranquillamente vicino al predicato senza bisogno di nulla. Questo è un complemento diretto. Ed è il complemento diretto per eccellenza. Quindi altra regolina d'oro da ricordare. Il complemento oggetto può stare tranquillamente agganciato al verbo senza bisogno di nessuna preposizione o altre parti del discorso. come faccio a trovare il complemento oggetto devo chiedermi chi cosa attenzione però attenzione perché questa è una domanda che può ingannare. Se io questa domanda la applico prima di aver trovato il soggetto in una frase complessa posso trovarmi nei guai. Invece bisogna seguire i passaggi uno dopo l'altro. Quindi prima trovo il verbo poi trovo il soggetto del verbo ed è solo a questo punto che io mi posso chiedere che cosa subito dopo il predicato. Il gatto soggetto mangia che cosa i croccantini ho trovato il complemento oggetto ma attenzione devo seguire rigorosamente questi tre passi nel loro ordine altrimenti posso trovarmi nei guai. Abbiamo analizzato la prima delle due frasi adesso passiamo alla seconda e dorme sul divano solito discorso abbiamo trovato il nostro predicato stabiliamo subito che è un predicato verbale e poi che cosa bisogna fare per seconda cosa trovare il soggetto subito sempre 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 Devo farmi la domanda Chi compie l'azione di dormire? L'errore che si può fare è di rispondere il gatto Certo che è il gatto che dorme sul divano di mia nonna perfetto ma il gatto è una parte di discorso che appartiene alla prima frase noi adesso stiamo esaminando la seconda e quindi dobbiamo guardare solo le parole che abbiamo scritte qui davanti e dorme sul divano la parola gatto qui non c'è quindi anche se ovviamente ci verrebbe spontaneo dire il gatto nell'analisi logica di questa frase non lo possiamo fare attenti bene quindi noi ci facciamo la nostra domanda ma non possiamo rispondere il gatto perché sarebbe un grave errore non c'è nessun'altra parola in questa piccola frase che indichi il soggetto e allora introduciamo un altro elemento di ripasso il soggetto può essere sottointeso cosa vuol dire? vuol dire che il soggetto c'è che io so bene qual è è il gatto ma non è scritto anche perché se tutte le volte che scrivo un verbo metto di fianco al verbo nuovamente il soggetto la frase diventerebbe proprio brutta prova prova a sentire il gatto di mia nonna mangia i croccantini e il gatto dorme sul divano è brutto non va bene allora io il soggetto se è uguale lo sottointendo cioè non lo scrivo tanto chi legge la frase lo capisce e infatti tu l'avevi capito era il gatto come faccio allora cosa scriverò metterò al posto della parola gatto un pronome e poi scriverò soggetto sottointeso quindi in questo caso la risposta alla mia domanda è esso soggetto sottointeso perché è importante scriverlo perché tu fai capire che in realtà sai benissimo qual è il soggetto non è che ti sei dimenticato di scriverlo sai che il soggetto è quello e che viene sottointeso proseguiamo con la nostra famosa terza domanda chi che cosa allora esso soggetto dorme predicato che cosa e qui mi accorgo subito che questa domanda non ha senso perché io l'unico elemento che ho è sul divano e già dovrebbe scattarmi un campanellino d'allarme perché sul è una preposizione una preposizione articolata e noi prima abbiamo detto che il complemento diretto cioè il complemento oggetto non deve avere queste paroline di aggancio infatti sul divano potrebbe essere la risposta a questa frase che cosa è una risposta che non ha senso non ha logica infatti sul divano non potrà mai essere un complemento oggetto cosa significa allora questo altro elemento di ripasso che il complemento oggetto può esserci ma può anche non esserci non è obbligatorio mentre il soggetto nel 95% dei casi c'è gli altri complementi non possono esserci possono non esserci in questo caso io non avrò un complemento oggetto una volta che io ho terminato questi tre passaggi e cioè verbo soggetto ed eventualmente il complemento oggetto posso dedicarmi a tutti gli altri complementi che io posso trovare in una frase adesso vediamo se hai le idee chiare prendi un quaderno un foglio una penna blocca questo video e sul tuo quaderno individua per ciascuna di queste frasi il soggetto quando avrai finito di fare questo esercizio potrai andare avanti ad ascoltare questo ripasso bene vediamo se hai individuato i soggetti giusti prima frase Pino adora la grammatica se hai seguito le regole verbo adora il predicato è adora predicato verbale mi faccio la domanda chi compie l'azione di adorare Pino soggetto vediamo se c'è un complemento oggetto Pino adora che cosa la grammatica benissimo complemento oggetto questa era semplice passiamo alla seconda in primavera crescono le fragole qual è il verbo crescono predicato verbale chi compie l'azione di crescere le fragole quindi le fragole sono il soggetto cosa impariamo da questa frase due cose la prima è che non è detto che il soggetto sia sempre all'inizio della frase non commettere questo errore perché il soggetto può trovarsi in qualsiasi punto all'inizio a metà o alla fine come in questo caso seconda cosa se tu ti fossi fatto la domanda semplicemente che cosa crescono che cosa le fragole avresti potuto magari scrivere complemento oggetto ecco perché prima abbiamo ripassato bene l'ordine in cui io devo pormi le domande quindi qual è il verbo chi compie l'azione quindi non semplicemente la domanda chi che cosa ma chi compie l'azione e poi eventualmente chi che cosa terza frase chi ha mangiato tutta la torta predicato ha mangiato chi compie l'azione di aver mangiato questa parolina qua che è un pronome chi ha mangiato che cosa tutta la torta è un complemento oggetto cosa ci insegna la frase numero 3 la frase numero 3 ci insegna che il soggetto non sempre è un nome in questo caso è un pronome un pronome personale frase numero 4 è divertente uscire con te e qui c'è un piccolo problema eh sì perché io di predicati ne vedo due è divertente ma anche uscire è un verbo ecco che in questo caso deve venirmi in aiuto la logica è divertente predicato nominale perché è un predicato nominale perché è formato dal verbo essere più divertente che è un aggettivo quindi copula nome del predicato mi faccio la domanda chi compie l'azione di essere divertente uscire è il gesto di uscire il fatto di uscire che è divertente e quindi uscire anche se è un verbo è il soggetto cosa imparo da questa frase che non solo non è detto che il soggetto sia un nome ma può essere addirittura un verbo in questo caso il verbo uscire indica l'azione dell'uscire la circostanza dell'uscire ed è il soggetto della frase ancora una volta vedi come è importante porsi la domanda giusta qui non abbiamo complemento oggetto perché subito qua si vede una preposizione quindi non ci interessa frase numero 5 andremo al cinema con gli amici il predicato è andremo predicato verbale chi compie l'azione di andare al cinema noi andremo noi andremo è scritto da qualche parte no non è scritto però noi lo capiamo quindi scriveremo noi soggetto sottinteso frase numero 6 mi serve un nuovo quaderno di grammatica vado vado subito a prendere il predicato serve predicato verbale chi compie l'azione di servire un nuovo quaderno attenzione perché qui ci sono ben due errori in agguato uno più grave dell'altro quello meno grave è di mettere insieme un nuovo quaderno di grammatica attenzione no di grammatica mi sta dando un'altra caratteristica svolge un'altra funzione che non è quella di essere soggetto quindi il soggetto in questo caso è solo un nuovo quaderno ma l'errore ancora più grave che spesso si fa è dire che il soggetto è mi perché non ci si fa la domanda perché si va per istinto mi serve soggetto mi io no no assolutamente perché questo mi significa a me cosa c'entra col soggetto a me a me mica compie l'azione quindi attenzione perché in una frase spesso i pronomi personali vengono scambiati per soggetto ma questo capita se io non mi faccio la domanda magica cioè chi compie l'azione quindi chi compie l'azione di servire è il quaderno che serve poi il quaderno servirà a me servirà un quaderno di grammatica ma queste sono tutte informazioni in più che non c'entrano niente non sono loro il soggetto ultima frase in montagna ha nevicato per giorni andiamo a stabilire subito il verbo ha nevicato chi compie l'azione di nevicare o nessuno nessuno questo è uno dei pochi esempi in cui nella lingua italiana non c'è nella frase il soggetto perché non c'è il soggetto perché questo verbo nevicare è un verbo impersonale quindi i verbi impersonali sono quelli che non hanno soggetto attenzione bene non ce l'hanno il soggetto non è che il soggetto è sottointeso non ce l'hanno la maggioranza di questi verbi sono verbi che indicano fenomeni atmosferici quindi nevicare piovere fa freddo tutti questi verbi non hanno il soggetto in questo caso si scrive semplicemente verbo impersonale per far capire che non è che tu non hai trovato il soggetto o ti sei dimenticato di scriverlo tu sai che questo verbo è impersonale non ha le persone e se non ha le persone non può avere un soggetto non ha le persone